Il 9 è il cavallo e il 10 ferma Il 9 è il cavallo? Il 9 è il cavallo Il 10 è il re Se lui vuole cambiare la carta con te Ma tu hai girato la carta all'inizio Ed è un cavallo, la cambia con lui Ah ok C'è il re e lui non può cambiare con nessuno Io non ho capito Se qualcuno all'inizio invece c'è il 10 Ti gira su e ti dice Marta E tutti girano le carte Con vita, senza cambi E in quel momento ragazzi Quando ti perdono 3 vite Ti muore E si esce dal gioco Però c'è la regola dei morti Se uno di quelli è ancora in vita Che c'è ancora la dire Parla con un morto Ti dà la vita Parla o interagisce? Parla Se io faccio così Se sei morta non cambierai Se dico Marta Io farei interagisce proprio No, è proprio barina E io anche è il tipo livello 5 Dai che è molto perfetto Eeeh Non ho capito il caso Comunque non ti dico No dai Però si Beh no Non ti tiro Non ti ro' di Ci gio Un po' di